In Italia ci sono stati tanti campioni, il Bob, a partire dal primo Giugno Monti e l'ultimo grande campione è stato il mio allenatore Gunther Huber, per cui sto imparando molto e spero di diventare anche uno dei grandi campioni italiani. È difficile emergere in questo sport perché si viaggia sui centesimi, quindi ogni piccolo errore si paga tanto, bisogna essere molto precisi, perfetti, non sbagliare niente. Penso che abbiamo tutte le qualità per poter vincere e dobbiamo stringere i denti per tirarle fuori e arrivare insieme ai migliori.